ciao ragazzi benvenuti a watch in time siamo qui per parlare il mio nuovo orologio appena arrivato nella collezione e molti di voi che magari per la prima volta seguite canale penseresti probabilmente che sto parlando del tudor black bay chronograph che vedete qua a sinistra che è stato rilasciato adesso quest'anno paio di mesi fa ma in realtà no sto parlando di questo tudor fast rider black shield chronograph di cui vi parlerò durante questo video perché penso sia una delle perle nascoste di tudor una delle tante perle di cui ormai come collezionista di tudor anche mi sono reso conto non hanno avuto il marketing grosso che ne hanno altri modelli non hanno avuto il riconoscimento da parte delle persone che magari sarebbe stato dovuto date le caratteristiche le qualità di questo orologio ma soprattutto sono fuori catalogo per cui da due anni è uscito fuori catalogo questo black shield e penso che negli anni a venire insieme a ci sono altri video se volete vederli che ho fatto con questo riferimento c'è sta il ranger il tudor ranger ma anche il tudor north flag altre due gemme l'ultima gli ultimi due sono stati tolti quest'anno dal catalogo che secondo me negli anni a venire avranno un riconoscimento maggiore dai collezionisti ma secondo me era un'opportunità spiegata anche di tudor di riconoscersi e diventare anche conosciuto per modelli diversi al black bay come voi sapete tudor ha presso una piega diciamo di riconoscimento abbastanza importante di differenziazione di rolex negli ultimi anni e tutto questo è stato grazie alla linea black bay che paradossalmente è la linea che si assomiglia di più al suo fratellone il submariner e sulle tracce in realtà del submariner hanno costruito un riconoscimento diverso alternativo a rolex questo lo posso capire perché ci sono tanti appassionati mi incluso del submariner che ho e che vogliamo vedere in un brand magari più più economico lo stesso heritage la stessa passione che viene messa e con magari con un dna leggermente diverso e questo loro lo hanno raggiunto con il black bay e il riconoscimento che questo ha avuto questo modello black bay chronograph in questo caso del 2021 nel quadrante con il quadrante panda sicuramente si presenta come un ricordo del suo antenato il daytona paul newman molto ma molto bello e che allo stesso tempo non è un rolex ma soprattutto un orologio che è diventato quasi impossibile di acquistare non per i soldi ma perché non ti li vendono e non ci sono e per cui è un modo anche da contentarci avere un qualcosa che ci piace e riprendere un estilo anche dal fratellino invece io oggi vi parlo di questo black shield il tudor black shield uscito nel 2012 presenta una serie di caratteristiche che sono secondo me importante da segnalare e da tenere in considerazione e oltre il fatto che il cinturino nasce come un orologio sportivo ovviamente per cui il cinturino è in pelle c'era anche la versione in cauchu e tre colorazioni diverse quella nero con rosso che questa qua la ducati perché in realtà era una collaborazione con ducati nero con bianco invece di rosso e poi c'era una versione nero con dorato marrone chiaro se vogliamo mettere un altro punto che veniva invece con un cinturino in camoscio marrone allora tutti i tre di quelli tutti i tre ovviamente quello marrone con nero era magari quello più elegante questa versione rossa è sicuramente sportiva ma tra l'altro nasce per gli appassionati delle motorbike ducati e ci presenta anche a una serie di innovazione all'epoca tudor non aveva ancora lanciato i suoi movimenti di manifattura non utilizzava movimenti di manifattura braiding per i cronografi come nel caso del black bay crono e invece si appoggiava ad etta selita di cui ancora si appoggiano perché vi ricordo che la linea ranger non ranger ma la linea diciamo che si assomiglia più all'oyster di tudor ma come gli altri modelli royale eccetera tutti hanno un movimento etta base selita base ok non sono cost certify sono movimenti etta o selita ed ovvio il prezzo inferiore di quello che non siamo abituati a pagare per un cost tudor rimane come uno dei migliori marchi in questo momento dal mio punto di vista ha superato anche omega magari cinque anni fa omega era nella posizione eccellente fra qualità prezzo pagavi il prezzo giusto aveva un orologio di qualità oggi omega alzato l'asticella gli orologi di omega costano intorno al stesso livello di un rolex e invece abbiamo i tudor che sono rimasti in quella fascia di prezzo bassa hanno alzato ovviamente nei movimenti di manufattura il prezzo però stanno presentando delle opzioni per 4000 euro fantastiche con casse in in argento come l'ultimo black bay 58 con casse in bronzo cinturino in bronzo sempre per circa 4000 euro all'epoca questo orologio costava all'incirca 4000 euro però aveva delle caratteristiche molto particolari che per il 2012 vi posiziona nel tempo nel 2012 erano anche innovative e anticipavano altri marchi perché questo non è un dlc si vedete bene la casa che anche una forma molto molto particolare mi piace tantissimo anche i laterali che assomigliano un po a uno scudo che viene ripreso anche nel bottoncino per cambiare la data l'intera cassa è fatta anche ovviamente la ghiera in ceramica è un orologio tecnico questo orologio non ha nessun graffio perché praticamente non ne soffrirà mai un graffio con una casa in ceramica il cinturino in pelle con la cuscitura e rosse riprendono perfettamente il quadrante che si presenta all black con dei punti di evidenza rosse ducati un rosso ducati bellissimo dal mio punto di vista mi piace tantissimo so che gli orologi o black non sono per tutti lo capisco però ci sono momenti in cui è un'opzione totalmente accettabile e come vedete il cronografo funziona perfettamente è un vale giù per cui stiamo parlando di un movimento ben conosciuto svizzero che viene utilizzato da tudor e anche da daiton all'epoca e è un orologio che ne ha non solamente le caratteristiche tecniche ma una bellezza e sportiva che secondo me all'epoca non era pari nessuno e questo mi porta anche a pensare che questo orologio è stato prodotto e anche rilasciato molto prima che altri marchi arrivassero con l'utilizzo dei materiali come la ceramica stiamo parlando prima delle ghiere in ceramica stiamo parlando prima degli omega con casa in ceramica non entro sui brand specializzati in ceramica come rado che un altro tema un altro punto però sicuramente è arrivato prima di un omega si master casa in ceramica che oggi costa intorno alle 8 mila euro e questo orologio ne costava la metà un terzo se adesso con il mercato di seconda mano magari anche un terzo il fatto che tudor abbia prodotto un orologio ad un costo così inferiore rispetto magari a quello che vedete con omega penso che sia una cosa veramente fantastica purtroppo non è stata mai apprezzata nel modo in cui avrebbe dovuto ed oggi ci ritroviamo anche con l'orologio fuori listino è un peccato veramente ritengo che sia un peccato la manifattura di questo orologio è ottima la qualità della ceramica lo rende praticamente eterno e in più abbiamo un prezzo costo beneficio in questo caso che è altissimo trovandolo a quello che si trova in questo momento sono sicuro che con il tempo sarà uno di quei orologi che prenderà valore mi rendo conto che sempre la colorazione è quella che è sarà un po limitante sicuramente abbinarlo a quello che sono i nostri stili è sempre più classico il colore acciaio però allo stesso tempo lo rende sicuramente particolare diverso agli altri e anche omega quando ha sardato coin si master cassa in ceramica ma così come gli orologi magari di rado e comunque ma anche altri come i buchi e alla fine trovano un mercato e un espazio penso che in parte il problema sia stato anche il marketing di tudor e la gente che ne va solo dietro al black bay è un peccato veramente mi auguro che vi sia piaciuto questo video e ci vedremo nel prossimo e magari con qualche aggiunta nuova o magari rivedendo alcuni tanti orologi che ne ho in collezione fino alla prossima allora